Un drago d'acciaio, veglia su terni, inaugurata oggi pomeriggio davanti al caos, la statua del Tirus, alta 5 metri. Al via il campionato europeo di calcio, dopo i giorni gloriosi dell'edizione del 21, quali sono le aspettative dei tifosi ternani? Ignazio Abate si allontana dalla panchina delle fere, sedotto dall'idea di sostituire Alessandro Nesta alla guida della Reggiana. Bentrovati a una nuova edizione del notiziario di AM Terni Television. Terni ha finalmente il suo drago d'acciaio, è stata ufficialmente inaugurata la statua del Tirus creata dall'omonima associazione da Marco Diamanti e da un pool di esperti di creazioni digitali in 3D. L'imponente scultura di circa 5 metri di altezza è il risultato dell'assemblaggio di decine di lastre smaglianti di acciaio pregiato e produce giochi di luce mozzafiato che cambiano con le condizioni ambientali circostanti. Il Tirus d'acciaio vuole essere il simbolo di una nuova Terni, figlia del passato, ma protesa verso il futuro, come vogliono suggerire le ali di cui è dotato il drago. Al posizionamento e al disvelamento della scultura è collegato un fitto calendario di eventi chiamato le giornate del drago che hanno coinvolto cittadini e autorità a partire dallo scorso 12 giugno. Cambiamo decisamente argomento, è stata ricostruita la dinamica dell'accoltellamento da parte di un 34enne marocchino ai danni della moglie e perfino della figlia di 5 anni in una casa di Tuoro sul Trasimeno. Ecco i particolari. Il 34enne marocchino che ha inferto più di 15 coltellate alla compagna e ha ferito anche la figlia di 5 anni lo scorso venerdì in via Console Flaminio a Tuoro sul Trasimeno è ora trattenuto nel carcere di Capanne. Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica della vicenda dopo un lungo interrogatorio. Kamal Ennuri la sera prima si sarebbe ubriacato e l'alcol lo avrebbe indotto ad essere più irascibile del solito il giorno successivo quando la lite con la sua compagna è degenerata in un'aggressione quasi letale. L'ha accoltellata ripetutamente senza fermarsi nemmeno alla vista della sua stessa figlia in braccio alla madre. La piccolina così sarebbe rimasta ferita alle gambe anche se per fortuna non in maniera grave. In realtà però non si tratterebbe di un caso isolato. La coppia era in crisi da lunghissimo tempo a causa degli atteggiamenti estremamente possessivi del 34enne anche se la donna non lo aveva mai denunciato. Il 34enne ha quasi ucciso la sua compagna colpendo organi vitali facendola finire in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia dove è tuttora ricoverata. Per lui l'accusa è di tentato omicidio ai danni della compagna anche lei di 34 anni anche lei di origini marocchine e di lesioni ai danni della figlia. L'arma del delitto, un coltello da cucina, ancora non è stata recuperata dai carabinieri nonostante le ricerche spasmodiche per trovarla. Il 34enne dopo aver quasi ucciso sua moglie è uscito di casa ancora imbrattato di sangue e ha iniziato a vagare. Al PM ha detto che non ricorda dove abbia gettato l'arma. Ci sono stati due ingenti furti nel complesso di San Pietro a Monteluco di Spoleto. Quattro ladri armati di piede di porco hanno forzato le porte d'ingresso sia dell'abitazione di un prete sia dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero. Nella cassaforte dell'istituto appunto erano custodite alcune migliaia di euro. I ladri protagonisti della scorribanda sono per modalità di azione sicuramente dei professionisti consapevoli che pur agendo in pieno giorno avrebbero avuto a disposizione tutto il tempo necessario a portare via due casseforti. A scoprire i furti è stato un dipendente dell'istituto diocesano e attualmente sono in corso le indagini dei carabinieri. Un'infermiera dell'ospedale di Terni è stata condannata a risarcire 12 mila euro ai familiari di una donna che nel 2013, all'epoca novantenne, era caduta dalla barella e si era fratturata l'omero. Questa sentenza è stata pronunciata dalla Corte dei Conti e per certi versi pare rivelarsi una sentenza storica. Scopriamo i motivi nel servizio. Cade dalla barella e si rompe l'omero, infermiera dell'ospedale di Terni condannata a risarcire i familiari della donna. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte dei Conti. La dipendente del Santa Maria dovrà pagare ai familiari della novantenne circa 12 mila euro, una sentenza per molti aspetti storica che apre un precedente importante sotto il profilo giurisprudenziale. La paziente protagonista della vicenda, al tempo novantenne, era caduta da una barella del pronto soccorso del Santa Maria di Terni e, a causa dell'incidente, aveva riportato la frattura dell'omero sinistro. Il fatto risale all'8 febbraio del 2013 e ora, a distanza di 11 anni, una dipendente dell'azienda ospedaliera, infermiera professionale, per quella caduta è stata condannata dalla Corte dei Conti dell'Umbria al pagamento di quasi 12 mila euro di risarcimento nei confronti del Santa Maria, che ha poi liquidato il danno agli eredi della paziente, nel frattempo deceduta per altre cause. Per i giudici contabili la dipendente ha dimostrato superficialità, scarso senso di responsabilità e temporanea inosservanza delle più elementati regole di buonsenso e prudenza, per cui si configura una colpa grave non scusabile. Meglio è andata un altro infermiere professionale e a una dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza, per i quali è stata invece respinta la richiesta di condanna per la stessa cifra, avanzata analogalmente da parte della Procura regionale contabile. Due cittadini rumeni di 34 e 29 anni sono stati denunciati a Perugia per ricettazione. Nello specifico i due uomini sono stati notati a armeggiare, con un sacco dell'immondizia, da un poliziotto libero dal servizio, il quale si è insospettito e ha richiesto l'intervento di una volante per un controllo più approfondito. Avvicinati dai poliziotti, i due soggetti sono stati appunto sottoposti a perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti all'interno del borsello del 31enne e della busta dell'immondizia, gli agenti hanno rinvenuto numerosi articoli per la cura della persona e alimentari, dei quali i due non sono stati in grado di giustificare il possesso. 25.000 persone sarebbero destinate a essere ospitate in Umbria in caso di un'eruzione del vulcano dei Campi Flegrei. La protezione civile infatti ha elaborato e reso noto un piano preventivo che coinvolge anche l'Umbria. Ecco i particolari. La protezione civile ha reso noti alcuni dettagli del piano di evacuazione che scatterebbe in caso di eruzione del vulcano dei Campi Flegrei in Campania. È stata individuata una zona rossa, all'interno della quale il rischio sarebbe talmente elevato da rendere necessaria una totale evacuazione della popolazione residente. Da quanto si apprende, le persone interessate da questa misura precauzionale dovrebbero essere trasferite in regioni amiche o gemellate, questa la dicitura utilizzata. E anche l'Umbria sarebbe destinata ad accogliere dei rifugiati, nello specifico circa 25.000 persone provenienti dal comune di Bacoli. Il numero complessivo di persone interessate dalle misure preventive potrebbe arrivare anche al mezzo milione. Specifichiamo subito che si tratta solo di ipotesi precauzionali e che questo pacchetto di accorgimenti non ha niente a che vedere con il fenomeno del bradisismo che si sta registrando in queste ore in quella zona. L'evacuazione sarebbe necessaria solo in caso di una vera e propria eruzione, circostanza che non si verifica da circa 500 anni. Ad ogni buon conto meglio essere preparati. Tanto è vero che per il prossimo ottobre si prevede anche un'esercitazione destinata a tutta la popolazione residente nella zona rossa. Una notizia di particolare interesse per gli automobilisti, infatti arriva il via libera da Palazzo Spada per un nuovo autovelox con sistema tutor lungo la Valnerina. L'impegno di spese è di 219 mila euro a favore di terni reti. Il tratto interessato in entrambi i sensi di marcia sarà quello compreso tra la cascata delle marmore e l'inizio del territorio comunale di Arrone. Tra pochi giorni il sistema di rilevamento della velocità verrà installato appunto in questo tratto che recentemente è stato anche teatro di incidenti anche molto gravi, tra cui quello in cui ha perso la vita Angelo Bellachioma. Il pressing infatti nell'ultimo periodo era arrivato proprio dai residenti, specialmente degli abitati delle zone di Torre Orsina e Collestate. Cosa resta a fine mese degli stipendi degli Umbri? Sono più risparmiosi o scialacquoni? A sbirciare nei conti in banca dei cittadini Umbri ci ha pensato l'Istituto Tagliacarne. Vediamo i particolari. Ternani più risparmiosi dei perugini. Ma definirle formiche è troppo anche se riescono a trattenere qualcosa sullo stipendio mensile. A sbirciare nei conti in banca dei cittadini dell'Umbria ci ha pensato l'Istituto Tagliacarne realizzando un'indagine sulla propensione al risparmio delle famiglie. In base a quanto emerge dal dossier sono i biellesi in Italia il popolo più oculato con una propensione al risparmio del 15,4% del proprio reddito disponibile nel 2022. Seguono gli abitanti di Vercelli 13,8% e Assi 13,1%. Mentre sul fronte opposto ci sono Ragusa, Crotone e Siracusa dove le famiglie riescono a mettere da parte solo il 4,6% del loro reddito. Nel complesso è a nord ovest che la popolazione mostra una maggiore capacità di risparmio e in testa c'è la regione Piemonte. A fare più fatica ad accantonare un piccolo gruzzoletto per il futuro sono invece i residenti del mezzogiorno anche a motivo delle minore entrate e nelle città metropolitane dove probabilmente pesa il maggiore costo della vita. Per quanto riguarda l'Umbria, l'Istituto Tagliacarne rileva che l'ammontare del risparmio nel cuore verde d'Italia è pari a poco più di un miliardo di euro, pari al 6,1% del reddito disponibile. Si tratta di uno dei dati più bassi d'Italia. Fanno peggio soltanto Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. A livello provinciale, come detto, i ternari sono più formiche dei perugini. La propensione al risparmio nell'Umbria del Sud è del 6,8% che scende al 6,5% nel resto della regione. Entrambe le province guadagnano comunque 5 posizioni rispetto ai dati del 2019. Scendendo più nel dettaglio, nei Salvatanai del Ternano ci sono poco più di 279 milioni di euro. È come se ogni cittadino di Terni e provincia avesse da parte qualcosa come 1.300 euro, mentre i perugini hanno risparmi per poco meno di 840 milioni di euro, il 6,1% in più rispetto a cinque anni fa. Parliamo adesso della viabilità difficoltosa sulla E45, perché tra restringimenti di corsia e ai continui lavori in corso si aggiunge anche una novità. Nella notte appena trascorsa gli automobilisti sono stati costretti a lasciare la superstrada a Monte Castrilli, dove campeggiava il cartello uscita obbligatoria. Però da quel momento le cose sono andate anche peggio, perché i lavori in corso pure erano sulla strada provinciale e una lunga coda si è formata fino ad Acquasparta, morale della favola, per andare da Perugia a Terni c'è chi ha impiegato circa 1 ora e 40 minuti di viaggio. È scattata questa mattina alle 10 da Piazza Tacito a Terni la 27esima edizione della Coppa Borzacchini Historic. 50 le vetture di pregio storico che sono iscritte alla gara, come la Lancia Aurelia B20, la Flaminia Coupé, la Porsche 356 e la Fiat 1100. Vediamo alcune di queste meraviglie nel servizio. Rombo di motori e scintillio di carrozzerie tirate a lucido. A fare da corollario una splendida mattinata di prima estate. È scattata oggi alle 10 da Piazza Tacito a Terni la 27esima edizione della Coppa Borzacchini Historic. 50 le vetture di pregio storico iscritte, come Lancia Aurelia B20, la Flaminia Coupé, la Porsche 356, la Jaguar E-Type, la Fiat 1100. Tra le tante vetture spiccava alla partenza anche una pandina, una Fiat Panda Rossa, modello basico dei primi anni 70, che dignitosamente faceva la sua figura in mezzo a vetture davvero affascinanti per design, carrozzeria e cavalli nei motori. Inserita nel calendario ASI e valida per il trofeo Marco Polo, la Coppa Borzacchini, le vetture iscritte, si sono dirette prima a Sant'Urbano di Narni per la visita al Sacro Speco Francescano e poi a Grecio per il presebio di San Francesco. Nel pomeriggio hanno raggiunto, dopo la sosta pranzo a Rieti, Fonte Colombo, dove visiteranno l'eremo. La giornata si concluderà poi con cena e pernottamento a Rieti. Domenica mattina il radar condurrà i partecipanti sul monte Terminillo, dove verrà percorso l'anello di Campoforogna, da dove, se le condizioni meteo lo permetteranno, sarà possibile scorgere il mare di Ossia. Quindi, attraverso il passo Sella, verrà raggiunta Leonessa per la visita al convento di San Francesco. Riaccessi ai motori, le auto storiche concluderanno il percorso a piedi luco, dove, dopo un'escursione in battello, si svolgeranno il pranzo e le premiazioni finali nel pomeriggio di domani. Sono iniziati ieri venerdì i campionati europei di calcio e stasera si attende anche il debutto della Nazionale Italiana. Siamo andati a chiedere ai tifosi ternani quali sono i loro programmi e, perché no, anche i loro pronostici. Ascoltiamoli. Per vedere l'Italia stasera? Sì, sì, con le amiche. Grazie. Sì, a casa. Ma io, onestamente, non sono molto fiducioso di questa Italia, però, sa, a Scaramanzia spero sempre che qualcosa facciano, anche perché a livello calcistico siamo una delle nazioni più forti del mondo, però a livello dirigenziale siamo una delle nazioni più da terzo mondo. Ecco qua. Senta, lei ha programmi specifici? Per esempio la partita la vedrà stasera? Sì, oppure a casa da solo, che almeno faccio le critiche mie senza che mi ascolta nessuno. L'Italia, sì, la vedo stasera per conto mio, a me il calcio piace guardarlo per conto mio, senza tante, diciamo, discussioni, cose, no? La seguirò, una squadra, secondo me, che non è fortissima perché ha delle difficoltà sicuramente, però potrebbe fare un buon cammino. Poi, come tutte le volte, praticamente, quando si fa un campionato c'è anche un po' di fortuna, però siamo fiduciosi, forse azzurri, dai. La segui da casa o con gli amici? Da casa, da casa. Con gli amici, abbiamo messo una bella tavolata, abbiamo fatto. Quindi a casa? A casa, a casa. A casa da solo, per scaramanzia, soltanto per questo. Speriamo che vada tutto bene. Se non c'è meglio, se no la vedo. Io a San Marino stasera. Stasera. Quindi, se la vedete, poi dove la vedete a casa con gli amici, come fa? A casa. A casa? Da solo? Eh, sì. Programmi per la partita stasera? Pareggio. Le prime partite sono strane. Ma la vedi a casa con gli amici? A casa. A casa con mio padre e poi esco. Ah, ok. Ricordate, pareggio è una partita secca, inizio europeo, ieri è stata un'eccezione, ma non è un bel pareggio. Adesso una breve pausa, poi continuiamo con l'approfondimento sportivo. In via d'arrivo numero 107, ortopedia sanitaria, il plantare. Vi aspetta, con una vasta gamma di ausili per la deambulazione, articoli sanitari, tutori ortopedici, calzature. Convenzionata per forniture ASL ed INAIL. Produzione interna di plantari ortopedici su misura, per ogni tipo di problema. Realizzati dalla dottoressa Tiberi, dopo accurato esame computerizzato. Modemanni, per la tua voglia di mare. Non sa bailar, chiedo bailar contigo, riesci a me a mirar come un amante innamorato. Apriamo la pagina sportiva parlando di Ignazio Abate, ex capitano del Milan e tecnico, ex tecnico della primavera sempre del Milan, che l'altro giorno era stato avvistato a Liberate a colloquio con il DS Capo Zucca. Ignazio Abate pare allontanarsi dalla Ternana, probabilmente in favore della panchina della Reggiana. E dalla società permane un certo silenzio che preoccupa i tifosi. Facciamo il punto nel servizio. Tutto sembrava fatto tra la Ternana a calcio e l'ex mister della prima era del Milan, Ignazio Abate. Il mister Campano in realtà ha chiesto qualche giorno di riflessione, ma il perdurare di questo silenzio, non parla guida, non parla capo zucca, non è di buon auspicio. La Ternana non sembra essere attrattiva come era una volta, e le domande sorgono spontanee. Perché Abate non firma? Non è convinto del progetto? Perché nessuno parla e chiarisce la situazione? E i tifosi sono sempre più preoccupati. Il presidente guida continua intanto a lavorare sul fronte società e alla ricerca di nuovi soci, gente interessata al progetto Stadio Clinica. L'altro giorno in un'intervista con cui radiviano nazionale è tornato a parlare di Ternana, il sindaco Stefano Bandecchi, che ha ribadito che se trova qualche partner è pronto a ricomprare la Ternana e a puntare alla Serie A e alla Champions League. Insomma, siamo davvero sull'orlo del paradosso, data la ormai riconosciuta incompatibilità con la funzione di primo cittadino. Poi, se parlate di Serie A e di Champions, fa pensare che il sindaco creda che tutti i tifosi della Ternana siano dei cretini che credono ancora a Babbo Natale, suona insomma di presa in giro l'intervista di Bandecchi. Una situazione, lo abbiamo detto, paradossale e che non fa pensare a nulla di buono. I prossimi giorni saranno decisivi. Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare dell'Orvietana che sembra essersi scatenata sul mercato. Infatti, dopo gli ingaggi ufficializzati la settimana scorsa di Gianmarco Caon e Amedeo Vincenzi, ecco la terza novità per la prossima stagione. Si tratta di un vero colpo di mercato per i bianco-rossi. Arriverà infatti a Orvieto Matteo Panattoni, 14 reti di cui 12 in campionato, da scorsa stagione a Ponsacco. 22 anni, 1,83 m di altezza, Panattoni è dai tempi della primavera del Pisa che si era messo in evidenza, con 27 reti segnate. Tanto da meritarsi anche l'attenzione del Taranto in Serie C e della Sanremese in Serie D, dove già ha avuto esperienze. In bici per sostenere Norcia e Castelluccio e per tenere alta l'attenzione sulle popolazioni colpite dal sisma del 2016. L'Associazione Francesco Nei Sentieri ha promosso una pedalata non competitiva di 38 km, tra Norcia e Castelluccio, a cui hanno partecipato amanti del cicloturismo e della ciclostorica. Vediamo le immagini nel servizio. Sono partiti la mattina presto dalla città di San Benedetto, passando poi per il Piano delle Marcite, fino al Pian Grande e quindi Castelluccio. Un gruppo di ciclisti appassionati di bici d'epoca ha così percorso i 38 km che separano Norcia e Castelluccio. Ma non si è trattato di una competizione, bensì di un gesto di vicinanza alle popolazioni che nel 2016 furono colpite dal sisma. L'ottava edizione dell'evento sportivo, Un Abbraccio ai Sibillini, è stata promossa dall'Associazione Francesco Nei Sentieri, proprio perché non cessi l'attenzione e la solidarietà nei confronti di chi ha patito le conseguenze del terremoto, specialmente in riguardo a chi ancora non è potuto rientrare in casa sua, o peggio ancora, non potrà mai farlo. Siamo all'ottava edizione dell'Abraccio ai Sibillini, la ciclo storica di vicinanza al cratere del terremoto, Norcia e Castelluccio di Norcia in particolare. Quest'anno devo dire che la frequentazione dell'evento è estremamente ricercata, estremamente qualificata. Abbiamo Giancarlo Brocci, abbiamo Paolo Rinaldi, abbiamo tutti i vertici dell'eroica, abbiamo amici da Montepulciano, da tutta la bassa toscana e veramente sono soddisfatto. Proseguirà questa manifestazione sempre per ricordare la condizione di tanti anziani che non riescono ad entrare nelle loro case prima di andarsene definitivamente. Scusate il discorso, ma il succo della situazione è questo. Manifestazioni come queste servono per dare un contributo a territori che meritano di essere scoperti dal turismo in bici. La bici deve andare a cercare i posti dove non è assediata dal traffico, dove è rispettata, dove trova spazi vitali e dove trova grande bellezza, perché qui siamo davvero nell'Italia migliore, l'Italia di periferia, l'Italia dove ancora ci sono ritmi di vita, bellezze naturali. C'è l'accoglienza, c'è la cortesia, c'è il rispetto e noi tutto questo l'abbiamo trovato. Poi la manifestazione di oggi per ricordare anche il dramma del terremoto e popolazioni che devono essere aiutate, luoghi che non devono morire, perché sono il patrimonio forse più grande dell'Italia. L'Italia di periferia è l'Italia più bella. Dopo la pedalata che si è svolta sia lungo strade asfaltate che bianche, il gruppo di ciclisti si è ritrovato a pranzo a Norcia. Oltre al panorama e all'aria buona, c'era da godere anche dei prodotti tipici locali. Questa era l'ultima notizia del nostro notiziario. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo buona continuazione con i programmi di AM Eterni Television. Arrivederci. Grazie a tutti.